Filippo Righini, un secondo tempo all'Arembaggio, dopo un primo tempo non giocato bene, un punto contro una squadra difficile, che partite è stata? Allora, adesso c'è un po' di rammarico perché siamo partiti con difficoltà nel primo tempo, abbiamo preso questo gol su un fallo dubbio, dopo è stato bravo il loro centrocampista a metterla sotto l'incrocio. Ecco, siamo entrati nello spogliatoio, abbiamo un attimo organizzato le idee, abbiamo fatto secondo me un grandissimo secondo tempo, dove secondo me abbiamo raccolto anche poco per quello che si è visto in campo. Però il portiere va salvato in due circostanze. Due grandi parate di Ambro, perché comunque noi ci siamo molto, come hai detto tu, proprio all'Arembaggio, siamo andati in attacco e naturalmente eravamo più sbilanciati dietro, però per il resto secondo me è stata una partita equilibrata, molto fisica, loro una squadra molto fisica, molto bravi anche a giocarla. È stata dura, è stata dura.